Siamo qui al Mantova Gin Fest, la festa degli amici gin tonici. È una festa a base di gin, per gli amanti di gin, per delle esperienze sensoriali. Esperienze che ogni produttore vi potrà spiegare perché ognuno vi dirà il suo prodotto, cosa c'è dentro e come assaporarlo. Il gin è una bevanda che ha preso piede negli ultimi anni, che non è solo un super alcolico, ma si può usare come aperitivo per pasteggiare. Infatti qui da noi ci sono dei gin che sono fatti apposta per la gastronomia. Noi siamo una delle 12 tappe dei Gin Fest. Questa qui soprattutto è un'idea di Francesco Milanesio, alias Gin Check, un super appassionato di gin e un gin influencer di Brescia. E è venuta questa idea di fare delle feste provinciali. In ogni provincia lui vuole sponsorizzare e far conoscere i gin del posto. Il nostro gin è nato per un fabbisogno, nato dal mio salame, perché io produco salame mantovano. Ho voluto creare il Civico 33 per abbinare proprio al salame. È un gin profumato che sa di cedro, peperosa, bergamotto. È un gin all'oro, perciò sgrassa bene il salame, che è il nostro must a Mantua. Invece il secondo, che si chiama 10B, l'abbiamo creato a 10 botaniche. È molto femminile perché è un rosa fucsia intenso e l'abbiamo dedicato alle donne. È un gin 24H. Mantua Gin Espiness è nata principalmente dalla nostra passione nel confronto del mondo del beverage e del distillato. Nasce dalla voglia di creare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso in questo mondo così ampio e così saturo del gin. E per questo abbiamo deciso di valorizzare un po' la nostra terra e di produrre un gin al melone. Primo e, lo dico piano, per ora, unico gin al melone. Nasce con la collaborazione con Distilleria Marzadolo, distilleria abbastanza conosciuta in provincia di Trento. E' nato questo gin formato da quattro botaniche principali, quindi all'oro menta, rosmarino e salvia. E con l'aggiunta di scorza di limone, che con la sua acidità va a bilanciare il melone. Il nostro gin nasce da un'idea molto semplice, quella di creare qualcosa di innovativo, mantenendo quelle che sono le tradizioni della distillazione e dell'arte del gin. Tutto quello che riguarda la produzione, quindi i tempi di infusione, la scelta delle botaniche e il quantitativo di ogni botanica, sono state selezionate interamente tramite l'intelligenza artificiale. Quindi ci ha pensato tutto il computer. Al primo colpo la ricetta è stata strepitosa, abbiamo iniziato a produrlo e adesso siamo qua per farlo assaggiare ai clienti e alle persone che vogliono provare questa innovazione nel campo degli spirits. Come si vede già dal logo che abbiamo scelto di utilizzare con questi colori, è il verde e il rosa, sono il basilico e il pompelmo rosa. Poi all'interno c'è anche il limone, lo zenzero e la menta. Il gina si ha note erbace, speziate, è secco e addirittura delle note anche agrumate, grazie al pompelmo rosa e al limone. L'idea, il classico gin, con dentro un'idea di salvia, un pensiero di cardamomo e una parola di rosmarino. In più siamo green, il packaging non si butta, fa da arredamento ragazzi, fa da arredamento il packaging. Inferno gin, il gin che produco ormai dal 1 ottobre 2022, colore rosso sangue, richiamare l'inferno di Dante, sette botaniche come sette peccati capitali, note che prevalgono sono basilico, cardamomo, camomilla, anice stellato e carcadec dal colore ovviamente. È rosso, è buono, è particolare, è un gin balsamico, è nuovo e sta andando bene, quindi direi di provarlo e assaggiarlo. Io sono Elias di Riadra i Gin, abbiamo due tipologie di gin, tutte e due ispirate al Marocco, che sono le mie origini. Abbiamo lo speziato agrumato, che ricorda un po' la mia storia, e poi abbiamo una Summer Edition, che è uscita da pochissimo, è ispirata alla bevanda tipica del Marocco, che è il tè alla menta, molto molto fresco. Questi gin si possono trovare al momento a Cremona, Brescia, Piacenza e stiamo iniziando anche a Mantua. A breve stiamo aprendo un e-commerce, per cui ci troverete anche online. Noi non produciamo assolutamente gin, non abbiamo distilleria, ma rivisitiamo uno dei 100 migliori gin al mondo. Ricetta London Dry originale, quindi 14 botaniche. Noi inseriamo in un sacchettino di cotone 9 fiori differenti per più di 48 ore, lo togliamo e lasciamo in macerazione l'ultimo, che è il fiore di pisello blu tailandese in purezza. Non ha conservanti, non ha coloranti, poi per azione chimica da blu diventa, dato dalla tonica, da blu diventa viola. Il nostro gin si può trovare solo nel nostro negozio, il nostro negozio è un pastificio con gastronomia, siamo a Porto Mantovano, noi siamo gioca piatto. Don't start care, no, help me now.